Si ritorna a parlare dello zingaro, prima un progetto, ora un ordine del giorno per impegnare il governo a cosa? Sì, un ordine del giorno sulla legge salvamare che è stata approvata ieri alla Camera in prima lettura per impegnare il governo a inserire l'area marina protetta dello zingaro all'interno delle aree di reperimento. Questo è un passaggio indispensabile per poter porre in essere tutti gli adempimenti e poter iniziare l'iter di costituzione di una vera riserva marina nello zingaro. Che precisiamo che c'è una riserva, ma riguarda la parte terrestre? Sì, una riserva che peraltro il prossimo anno compie 40 anni di età, che è stata la prima riserva naturale costituita in Sicilia. Sì, la parte terrestre che però ovviamente è di competenza della regione siciliana. Non è stata mai realizzata la parte marina protetta, e vogliamo completare il quadro di protezione di quest'area dando le giuste cautele, il giusto valore a quest'area importantissima. Anche una sensibilizzazione? Sicuramente è la direzione verso cui andiamo e anche l'approvazione della legge salvamare lo dimostra. Introduce degli importanti principi proprio per ridurre la quantità di rifiuti presenti in mare, in particolare la plastica. Vengono introdotte alcune importanti novità, come ad esempio i rifiuti che vengono accidentalmente pescati da parte delle imbarcazioni, da parte dei pescatori. Prima venivano considerati come rifiuti speciali, mentre adesso vengono equiparati ai rifiuti urbani in modo tale che i pescatori possano trattenerli sulla barca e poi conferirli nei centri che sono presenti in tutti i porti in maniera gratuita. Quindi in questo modo liberiamo il mare. Oltre a questo è un'importante novità eppure quella relativa alla possibilità di fare delle raccolte volontarie di rifiuti e quindi previa ovviamente autorizzazione e concertazione con le autorità marittime locali, in modo tale da liberare sempre di più il mare dai rifiuti, dalla plastica che ormai stanno diventando un vero e proprio fardello. Quindi i famosi spazzini del mare, c'è stata anche un'iniziativa a livello regionale, quindi regione, stato, tutti nella stessa direzione. L'obiettivo è tutelare le nostre acque, tutelare i nostri mari, anche le acque interne, mi riferivo, e non possiamo perdere ancora tempo perché gli studi parlano chiaro, fra qualche anno avremo il mare totalmente invaso da plastica, da rifiuti. I mari della Sicilia, qualcuno facendo una battuta, ha detto i mari più plastificati d'Italia. Sì, come dire, una battuta infelice nel senso, ma purtroppo veritiera. Siamo in una situazione di emergenza, ormai anche i pesci che vanno a fine nelle nostre tavole contengono una percentuale di plastica, quindi una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Allora adesso occorre un impegno bipartisan da parte di dottore forze politiche, perché si tratta di lotte che non hanno colore politico. Sono sicuro che ci riusciremo, ma occorre veramente un grosso impegno.